La tradizione mitologico-legendaria greca, quella principale in fin dei conti, si sviluppa partendo da quattro autori. Questi quattro autori sono Esiodo, Omero, Erodoto e Platone. È interessante perché, se partiamo dai primi due autori in fin dei conti, il tema è specificatamente di stampo mitologico. Poi inizierà con Erodoto a diventare leggendario in fin dei conti, definitivamente con Platone di stampo filosofico-logico-argomentativo. Ora, partiamo appunto con i primi due autori dove c'è pregnante il mito. Il primo è Esiodo. Il mito di Esiodo, in realtà viene fatto collocare nella tradizione classica esiodea, è probabilmente il mito che concerne in fin dei conti la struttura del mondo, in fin dei conti in realtà la nascita di un ordine. Quest'ordine nasce attraverso le prime divinità che, nel senso esiodeo della cosa, sono per esempio Urano, Gea e poi i loro figli come Crono, il titano Crono, da cui deriveranno gli dei dell'Olimpo. Infatti, secondo la mitologia classica, nel senso dei tronconi esiodeo, cosa è che accade? Accade che in tal senso Crono avrà paura dei suoi figli, perché sembra che l'oracolo, in realtà il senso del sogno, che poi tornerà, gli ha detto, la premonizione gli ha detto, che uno dei figli lo prenderà al suo posto, lo abbatterà. Questo è interessante. Infatti, Crono comincia poi a ingoiarli uno ad uno. La moglie, Rea, sarà costretta a passargli i figli uno ad uno e lui se li ingoiarà. A parte Zeus, perché a un certo punto la moglie Rea, che era scontenta di quello che Crono continuava a fare con i suoi figli, per Zeus, a dispetto invece che con Osidone, per esempio, e Ade, che invece li diede direttamente a Crono, a Zeus, al posto di dare Zeus come con gli altri, diede un sasso e Crono pensò che costui fosse Zeus. In realtà diede un sasso e Zeus crebbe e divenne potente. Da qui poi Zeus tornò e riuscì a liberare i fratelli e si costituì quello che poi è l'ordine, inteso come ordine degli dei olimpici. Questo è pure interessante perché, attenzione, secondo questo tipo di mitologia, l'ordine greco si costituisce sulla base del conflitto, se vogliamo dire propriamente del senso, dunque, del conflitto inevitabile. Il conflitto che aveva portato in certo qual modo al passaggio tra Urano e Crono e poi tra Crono e Zeus e da questo conflitto successivo poi ci sarà anche una tripartizione, il senso, in fin dei conti, della tripartizione dei tre fratelli, Zeus si prenderà il cielo, Osidone si prenderà il mare e Ade si prenderà gli inferi. Attenzione, questa tripartizione è importante all'interno della mitologia, all'interno quindi del troncone esodeo, perché l'ordine primordiale che si era stabilito successivamente al caos, dove non c'è nemmeno filosofia, non ci può essere argomentazione, non ci può essere logica, a un certo punto si costituisce sulla base di un ordine successivo che poi vede piano piano quelle divinità che non esistevano, le divinità olimpiche, esistere ed essere immortali, non già eterne, bensì immortali. E sulla base di questa tripartizione classica, i tre fratelli Zeus, Posidone e Ade, più i loro figli, si arriverà quindi al senso delle divinità che stanno nel mondo e partecipano alle cose del mondo. E qui il senso, anche se vogliamo, del senso greco antico, del fatto che i greci pensassero che le divinità in realtà stavano nel fatto sociale, inteso come non solo nel fatto sociale, ma questo fatto sociale che esisteva, vedeva in realtà probabilmente il senso del fatto naturale come collegato alla divinità. Pertanto se vogliamo far andare bene il fatto sociale, il senso politico tra noi, dobbiamo pregare la divinità perché questa divinità sta comunque nel fatto naturale, sta nella fisica. E quindi c'è, in certo qual modo, il senso della divinità che partecipa. Pertanto, prima di salpare, dobbiamo pregare magari Posidone perché ci aiuti a fare una buona navigazione, perché non ci sia una tempesta, il senso del cielo, Zeus. E, attenzione, da questo punto di vista Ade, che faceva estrema paura nella mentalità classica, probabilmente perché nel senso omerico, e qui arriviamo appunto ad Omero, quando si moriva l'anima andava nell'Ade, ma viveva una passività totale, tale per cui quest'anima perdeva il suo significato proprio della vita terrena. Ovvero sia, quando il corpo moriva, l'anima, nella tradizione omerica, va a finire nell'Ade, ma quest'anima nell'Ade vive un senso passivo della cosa, non ha un significato reale, proprio, vero, come poteva avere nella vita effettiva, pratica. Comincia a diventare passiva e vive, vive, vive sì, si potrebbe dire, ma in realtà non è corretto nel senso dire vivere, perché è come se restasse passiva continuando, per certi versi, a non capire, proprio perché il passivo sta all'anima in rapporto all'Ade. Quindi in realtà, specificatamente, il senso dell'Ade non prevede un significato chiaro all'anima. Ecco perché i greci, da un punto di vista classico, avevano anche molta paura di Ade, perché l'Ade era ciò che toglieva il significato, al senso autentico dell'anima. Solo successivamente si arriverà a un senso diverso, che sarà poi probabilmente il senso, se vogliamo, platonico. Però, in fin dei conti, prima di arrivare a Platone, c'è probabilmente il senso anche di Erodoto, perché Erodoto si fonda su quel sogno su cui, attenzione, c'è un collegamento, in fin dei conti, con Esiodo. Cioè, se c'è quel sogno, tale per cui Crono aveva paura di essere spodestato da uno dei figli, a un certo punto lo stesso Erodoto fa partire il presupposto della paura, in questo senso storica, degli imperi, partendo quindi dalla base del sogno. Quindi, se Esiodo, ma anche Omero, per certi versi, danno una spiegazione di stampo mitologico per chiarificare gli eventi, e Omero lo fa, per esempio, con la guerra di Troia, tale per cui la scelta di Paride, che è una scelta di stampo mitologico, nel senso lui è un uomo, ma sceglie la donna più bella, inteso come la dea più bella, e questa dea sarà afrodite su Atena e Hera, Ostei gli promette la donna più bella, che in fin dei conti lui prenderà da Sparta, perché la donna più bella promessa da, appunto, a Frodite, sulla base del fatto che Ostei gli ha promesso Elena, regina di Sparta, perché la regina di Sparta Elena è la donna più bella, lui la porta via da Sparta, e così c'è la guerra di Troia, perché la porta via da Menelao, e Menelao, appunto, vorrà rivaleggiare contro Paride, per fare in modo di, come dire, vendicarsi dell'atto di Paride. Questo è interessante, perché, vedete, c'è una connessione tra senso politico, la scelta dell'uomo, ma senso mitologico, la divinità che promette, e questa promessa porta alla guerra di Troia. Il senso in realtà leggendario, che concerne probabilmente il tema del sogno, e che, per alcuni versi, si avvicina al senso esiodeo, probabilmente del sogno, è quello, poi, però, di ambito storico, che, specificatamente, sviluppa, in verità, Erodoto, cioè il sogno tale per cui sono gli uomini che fanno dei sogni, ma questi sogni sono collegati alla divinità, però Erodoto parla soltanto da un punto di vista storico, ovvero sia, in certo qual modo è come se coltivasse l'idea che c'è un collegamento tra il senso divino, anche le divinità olimpiche, o il senso del fato, se vogliamo, e il senso terreno. Però, lo declina più in senso storico, cioè per cercare di evidenziare le vicissitudini storiche, cause e effetti storici, crea un senso più che mitologico leggendario per gli eventi. Pertanto, per esempio, cosa che dice Erodoto? Il regno di Lidia, cappeggiato, il re re reso, verrà a un certo punto sconfitto da Ciro, ma costui Ciro aveva avuto una relazione precedente con il re dei Medi. Il re dei Medi era colui che esisteva prima che Ciro, il gran re persiano, Ciro il Grande, prendesse il potere. Il re dei Medi ebbe un sogno tale per cui sognò che uno, in realtà Ciro, lo avrebbe spodestato. E questo sogno portò il re dei Medi, secondo appunto la descrizione di Erodoto di stampo leggendario, a fare in modo che Ciro morisse. Attenzione, Ciro era il figlio della figlia del re dei Medi, quindi era, in fin dei conti, il nipote Ciro del re dei Medi. E il re dei Medi disse, sulla base di questa premonizione, questo sogno che Ciro avrebbe spodestato, di dire a uno dei suoi uomini di prendere questo bambino e, in fin dei conti, di ucciderlo. Cosa che fece quest'uomo? Portò Ciro, in verità, da un pastore disse di portarlo su una montagna, così che il bambino morisse. Il pastore tuttavia si legò a Ciro e, portandolo a casa, vide che, a un certo punto, la moglie, che aveva partorito un bambino, vide che il figlio, appunto, non era sopravvissuto al parto e allora la moglie disse, ma perché non scambiamo Ciro con nostro figlio? Tanto, in fin dei conti, non lo saprà nessuno. Allora lui decisi di tenere Ciro e di prendere suo figlio, che era morto, e portarlo sulla montagna. Così, da fin dei conti, far pensare a tutti che costui sulla montagna fosse Ciro e non, appunto, qualcun altro. Questo è interessante perché poi lui si tenne Ciro, che crebbe, e, a un certo punto, nel sviluppo della storia, riuscì poi a sconfiggere Creso, a sconfiggere, scusate, il re dei Medi e, quando poi crebbe, arrivò davanti a Creso e lo sconfisse. Lo sconfisse conquistando il regno di Lidia. Quindi è interessante l'idea del sogno che viene in realtà ripetuto all'interno di questo senso mitologico leggendario, tale per cui lo stesso Erodoto, a un certo punto, come un po' aveva fatto la tradizione esiodea, utilizza la metafora del sogno di stampo leggendario per dare credenziali storiche agli eventi. E questo è interessante perché comunque ci dà un'idea di come anche la storia greca, in fin dei conti che nasce con Erodoto, abbia, sia stata influenzata, in certo qual modo, dal senso esiodeo-umerico. Tutto al più, le cose cominciano a mutare col senso platonico, perché in realtà Platone, e qui, in fin dei conti, siamo specificatamente nel IV secolo a.C., quindi Platone è, se vogliamo, quello che è più vicino a noi, si potrebbe dire, rispetto agli altri autori, da un punto di vista degli autori principali di stampo mitologico, filosofico, leggendario, perché Platone, a un certo punto, adotta una metodologia di mito che si discosta, se vogliamo, da quello che avevamo visto prima. Cioè Platone dà un'idea specificatamente filosofica e di riflessione al mito, tale per cui il mito stesso comincia a servire come senso di divulgazione di stampo filosofico, nel senso della messa in discussione anche, per esempio, delle divinità ufficiali. Nello stesso Socrate, cosa che comincia a fare a un certo punto, comincia, attraverso i dialoghi socratici, a criticare, in fin dei conti, le divinità ufficiali, dicendo che queste monopolizzano le verità, ma queste verità di ogni divinità sono diverse. Tuttavia Socrate vuole cercare la vera verità, la sua verità, ma questa verità non può che essere cercata sulla base di un senso filosofico di base che concerne la responsabilità individuale. Questa responsabilità individuale, per esempio, verrà sviluppata, evidenzata nel mito di Ertale, per cui lo stesso Platone parlerà del mito, anche nel senso classico, tirando fuori le moire, che sono clotolo, che esiatropo, come voleva la religione ufficiale, di cui spesso i greci avevano pure paura, però gli dà una declinazione, se vogliamo, anche più ottimista, nel senso che non sono più le moire che decidono sulla base del destino dove tu andrai e se vivrai una vita di pena, di sconforto oppure no. Quindi il determinismo, inteso come le divinità impattano su di te e tu non puoi farci niente. Platone dirà che sarai tu a scegliere l'anima in cui reincarnarti, quindi sulla base di una tradizione di stampo orfico, parlando però di mito, Platone cercherà, in senso anche filosofico-fileistico, di dare qualcosa di diverso al senso filosofico greco, inteso come a un nuovo senso. Quindi, se l'oracro di Delphi, che è così vicino al Dio, dice che Socrate è il più saggio, in accordo con Platone naturalmente, allora noi dovremmo anche affidarci a un nuovo tipo di rinnovamento, perché Socrate è il più saggio in quanto filosofo, però Platone a un certo punto sviluppa il tema socratico come dialogo e confutazione, ma questo dialogo e questa confutazione si sviluppano perché bisogna sapere che non si può sapere tutto, ma questo sapere implica anche una responsabilità individuale intesa come dubbio, e questo dubbio implica in fin dei conti il senso di una responsabilità individuale che imponga la filosofia e questa filosofia non può che essere maturata sulla base dell'anima. Per Platone l'anima concerne la cura di se stessi. Prima della cura del corpo per Platone c'è la cura dell'anima, non che la cura del corpo non ci sia, per Platone è fondamentale la cura del corpo, ma prima viene la cura dell'anima. Ma quest'anima si reincarna e questa reincarnazione tuttavia si basa sulla scelta individuale e sulla base anche della vita precedente. Pertanto per Platone la vita filosofica è anche una vita esistenziale. Il mito in questo senso non è più utilizzato per dire all'uomo che non vale nulla o in fin dei conti per dire all'uomo che in certo qual modo la divinità impatta sempre come alla fine il destino classico greco vuole. Invece Platone utilizza il mito per dire che l'uomo ha chance, ha qualche chance in più, ha qualche chance di decidere per sé, ha qualche chance di decidere per una sua responsabilità specifica e individuale. Ciao.